Musica Nome? Svetlana Cognome? Celimoca Dove sei nata? Nata da Oga, Filsen e Tonia Come sei arrivata al Giro d'Italia? Tramite un casting Qual è il corridore più simpatico che hai premiato fino ad oggi? Penso Finney Cosa fa una Miss del Giro d'Italia prima di arrivare al villaggio di partenza? Al villaggio di partenza noi di solito ci svegliamo abbastanza presto, quindi per le 8 stanno lì E dopo aver premiato la maglia rosa? Di solito finiamo alle 5 e mezza, arriviamo lì per le 6-7 facendo cena e poi a letto Cosa c'è nella valigia di una Miss? Ma ci sono tanti vestiti, ci sono tanti trucchi, cose tipiche da Miss Meglio un libro o l'Hipop? Un libro meglio Cosa ti ha dato di bello il Giro d'Italia? Una nuova esperienza, conoscere tante nuove persone E anche imparare qualcosa del ciclismo, sapere nuovi argomenti Cosa pensi del ciclismo anche dopo questa esperienza? Magari darò un po' più importanza rispetto a prima Cosa fai nel tempo libero? Nel tempo libero passo con la mia famiglia, esco, faccio palestra Vuoi salutare qualcuno? Saluto la mia famiglia e tutti i miei amici di Berga La 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 Grazie a tutti.